Il nostro numero, altri sono collegati da casa, è un corso nel quale, al di là del nome del corso, noi ripercorriamo, diciamo, la storia di come le questioni sociali e del lavoro sono passate per i canali internazionali, per cui ripercorriamo la storia, che ne so, delle internazionali sindacali, ripercorriamo la storia un pochino dell'organizzazione internazionale del lavoro, per cui abbiamo incontrato le convenzioni internazionali del lavoro e poi nelle ultime lezioni che dobbiamo ancora fare tratteremo soprattutto della dimensione sociale nel quadro del processo di integrazione europea, per cui le politiche sociali, le politiche del lavoro, qualche cosa, ovviamente il nostro non è un corso di diritto, io non saprei fare naturalmente, anche su quella che poi è un po' però la normativa, come si sviluppa a livello europeo su queste tematiche. Ne guardiamo soprattutto gli aspetti politici e che tipo di cambiamenti strutturali, economici si legano, da cosa dipendono, insomma, naturalmente poi incontriamo le direttive, incontriamo i cambiamenti nei trattati e cose di questo genere. Ecco, questo è un pochino il nostro interesse, diciamo che è un po' collaterale, naturalmente, rispetto alle cose di cui voi giuristi naturalmente trattate, però diciamo che ci sono elementi, ovviamente, che interessano anche noi. Ecco, questo. Grazie, allora, alla parola, Presidente. Grazie, grazie per questa occasione che io ho accolto volentieri l'invito del professor Sizia. Peraltro, con il professor Sizia c'è una già lunga consuetudine, lui collabora da tempo con la rivista di diritto del lavoro, di cui trovate l'attestata anche nella locandina. E quindi, e lo ringrazio ancora una volta per la sua collaborazione presente, passata e futura, ma molto volentieri ho accolto anche per la impostazione di questo incontro. E qui mi riallaccio a quanto ha appena detto il professor Meichi, perché devo dire che la presenza dei tre moderatori, il professor Sizia e il professor Meichi, il professor Sacchetto, è un fatto altamente positivo, secondo me, sul piano metodologico, perché le materie di competenza di ciascuno dei professori qui presenti, credo che consenta una virtuosa contaminazione fra saperi, una virtuosa contaminazione e, come dire, complementarietà fra tutti questi saperi. Io credo che ci sia, e da quello che ha detto il professor Meichi è già emerso questo, che vi sia uno spazio di intersezione fra il diritto e le altre scienze umane, e le altre scienze che studiano i comportamenti umani e sociali dell'uomo. E quindi mi piace questo approccio, mi congratulo per questo approccio alla tematica gius lavoristica. Del resto, qui mi riallaccio ancora a quel che ha detto il professor Meichi sugli studi che lui fa condurre a proposito della dimensione internazionale delle tematiche legate al lavoro. Mi permetto di dire, ma non per fare promotion per la rivista, ma la rivista di cui sono direttore, di cui trovate l'attestata nella Locandina, non a caso si chiama Lavoro Diritti Europa, proprio perché ritengo che la dimensione sovranazionale, nel settore del lavoro in particolare, la dimensione sovranazionale ha giocato un ruolo importante sulle tematiche del lavoro. Poi ogni volta oramai in Italia si è diffuso questo vezzo di dire quando c'è qualcosa di pesante, di faticoso da fare, ce lo dice l'Europa, come se fosse un fatto negativo. Secondo me non è negativo, ma in generale, ma meno negativo, anzi più positivo, è nel campo del diritto del lavoro, perché la normativa europea comunitaria sovranazionale e la giurisprudenza comunitaria hanno giocato in questi anni un ruolo importante nella evoluzione della materia, nella evoluzione dei diritti e con ricaduta ovviamente nell'ordinamento degli stati membri. che ho detto, proprio per contenermi nei tempi, perché gli argomenti saranno tanti da trattare, passando al nostro incontro, io richiamo l'attenzione sul titolo della giornata di oggi che dice dove è scritto fra diritto e processo. laddove diritto non va inteso in senso astratto, nel senso di ius, ma nel senso proprio di posizione giuridica del soggetto, di posizione giuridica del soggetto che viene riconosciuta al soggetto dall'ordinamento e che deve essere tutelata, il diritto di proprietà, quindi i singoli diritti di cui è titolare il soggetto. e allora fra i diritti e il processo c'è uno stretto legame funzionale perché il processo è volto ad assicurare l'esercizio, la realizzazione del diritto, la concretizzazione del diritto e dei diritti della persona perché se non ci fosse il processo i diritti resterebbero una formulazione astratta, cioè l'ordinamento riconoscerebbe un singolo diritto alla persona, al cittadino, ma se non c'è un processo che in caso di dissenso valga ad affermare sì, tizio ha questo diritto e quindi da ciò con sé, resterebbe una, come si dice, come dicono quelli che conoscono le lingue, un flatus vocis, l'affermazione del diritto. Quindi c'è questo stretto legame fra diritti e processo. Il processo del lavoro è un prototipo di questo assioma, è proprio un caso paradigmatico di questa mia affermazione e per le ragioni che vi dico, perché innanzitutto c'è un dato cronologico. Il processo del lavoro, come lo conosciamo attualmente, nasce nel 1973 con la legge numero 533. Perché? Ed è una sequenza temporale significativa, perché interviene dopo la stagione di alcune significative leggi in materia di rapporti di lavoro. Per dire, cito le più importanti, la legge numero 604 del 1966, lo statuto dei lavoratori nel 1970. Nel 1973 viene approvata e emanata la legge numero 533 sul processo del lavoro, che istituisce il processo del lavoro, che istituisce le sezioni specializzate dedicate al lavoro in ogni tribunale e quindi con una serie di cose su cui mi soffermerò. Ma per dirvi che comincio ad anticipare questo, perché proprio la sequenza temporale è rivelatrice. Si è voluto, dopo aver affermato i diritti con la legge 604 del 1966, lo statuto dei lavoratori in particolare, si crea una struttura processuale servente, diciamo, che deve servire a consentire, a facilitare l'attuazione, la concretizzazione di questi diritti. Allora, perché dico che il processo del lavoro è un prototipo seguito anche poi in altri settori? Innanzitutto perché fornisce un apparato processuale idoneo a garantire l'efficienza e l'efficacia. Gli studenti avranno già studiato questi temi, sapete che l'efficienza attiene alla celerità, ai tempi e ai modi di conseguimento di un risultato. L'efficacia attiene al conseguimento effettivo di un certo risultato. Guardate bene, siccome ho detto una parola che spesso viene fraintesa, celerità. La celerità non vuol dire velocità del processo, velocità della decisione, perché se no, se vogliamo, la decisione più veloce richiede un secondo. Si prende una monetina, la silenzia, testo croce e il discorso è chiuso. Celerità vuol dire quello che viene inteso dalla Costituzione nell'articolo 111 come riformato, che parla di ragionevole durata. Cioè la durata del processo deve essere ragionevole e tale da contemperare le esigenze di approfondimento con l'esigenza ovviamente di una decisione che intervenga in tempi rapidi. E quando parliamo di celerità bisogna tenere presente che la celerità del processo è la prima forma di tutela di tutti i soggetti del processo. Parliamo del processo civile, per esempio, qual è il processo del lavoro. Sia chi vince, sia chi perde la causa ha interesse a saperlo in tempi veloci e quindi già questa è una prima forma di tutela. Il processo del lavoro ripropone ancora il modello dell'originario codice di procedura civile perché come sapete il codice di procedura civile attualmente in corso del 42 fu nella impostazione originaria di Chiovenda aveva i caratteri della oralità, immediatezza e concentrazione caratteri che furono persi poi con la famosa novella del 50 ma non mi dilungo perché abbiamo di fronte persone che non hanno studiato la procedura civile però il modello originario del codice era questo ma poi è un altro prototipo di quello che dovrebbero essere le riforme in materia di processo quindi non solo di processo del lavoro perché la legge istitutiva del 73 dotava gli uffici e dico gli uffici intendo i giudici e la cancelleria perché il processo non è soltanto una questione affidata solo al giudice il giudice è una figura eminente nel processo ma se non c'è l'apporto, il supporto delle cancellerie il processo difficilmente procede. La legge dotava i giudici e le cancellerie di adeguate risorse umane e di struttura. Vi accenno un solo accenno per dire che il modello del processo del lavoro è stato talmente apprezzato che è stato esteso ad altri tipi, ad altre materie le locazioni, la materia agraria, il comodato di immobili urbani eccetera ma su questo non mi diffondo mi dico solo che i recenti progetti di riforma del codice del processo riecheggiano sostanzialmente, riproducono lo schema del processo del lavoro e quindi andiamo alla legge, al processo vi ho detto della sequenza temporale e quindi dopo le leggi importanti si approva il nuovo processo del lavoro che si caratterizza innanzitutto perché crea delle sezioni specializzate cioè crea una figura di giudice specializzato in una data materia così come in passato c'era e c'è il giudice specializzato nel fallimento il giudice specializzato nella famiglia si crea un giudice specializzato per le cause di lavoro e questo vale almeno per gli uffici più grandi dove c'è una sezione dedicata alle cause di lavoro nelle uffici più piccoli la specializzazione la si ottiene affidando a un giudice la materia del contenzioso del lavoro e questa legge incrementa la dotazione dei giudici ecco perché quando si parla di tempi del processo e di riforme una delle ragioni per le quali i processi durano a lungo non l'unica, non la principale ma è la carenza di personale e quando dico carenza di personale intendo numero scarso di giudici numero scarso di personale di amministrativo, di cancelleria il secondo profilo di questa legge è che proprio appunto per evitare la depauperazione di risorse umane cioè lo spostamento di giudici viene adottata una cautela particolare il giudice del lavoro non può essere trasferito ad altra sezione se non dal CSM mentre gli altri giudici che fanno parte di un tribunale possono essere spostati dal presidente dalla sezione delle locazioni alla sezione della materia gradia alla sezione della famiglia il giudice del lavoro non può essere spostato se non da consiglio superiore e questa è stata la norma opportuna per garantire la permanenza della dotazione organica dei giudici l'altro profilo importante del processo del lavoro è la gratuità del giudizio cioè fare una causa di lavoro non costava almeno nei primi anni poi negli anni recenti si sono introdotte alcune ragioni di spesa ma la parte che fa una causa di lavoro che normalmente la parte economicamente più debole il lavoratore non doveva affrontare nessuna spesa vi ricordo all'epoca c'erano le carte bollate le marche, le cause di lavoro si facevano si potevano scrivere in carta libera senza marche da bollo senza carte bollate è ovvio la ragione di questa finale è ovvia è quella di garantire l'accesso alla giustizia alla parte economicamente più debole poi l'altra tutela che c'era è stata rafforzata è quella del patrocinio a spese dello Stato per cui chi vuole iniziare una causa e ha un reddito a di sotto di una certa soglia fissata dalla legge può godere del patrocinio a spese dello Stato cioè l'avvocato difensore viene pagato dallo Stato ecco perché parlo di questo continuo a parlare di soggetto più debole economicamente più debole perché dico una cosa ora che vale non solo per il processo ma per la legislazione del lavoro il connotato distintivo di questa materia è la consapevolezza in capo innanzitutto al legislatore che il rapporto fra le parti del rapporto di lavoro e scusate ripeto il rapporto è un rapporto asimmetrico nel senso che non c'è un equilibrio di forza fra le due parti no? fra il lavoratore e la parte economicamente più debole del rapporto di lavoro quello che mi sto dicendo io fa parte della comune percezione no? chiunque di noi si rende conto che c'è uno squilibrio di forza economica fra il datore di lavoro ma per evitare qualunque illazione direi che di questo si era reso conto già in tempi lontani uno dei padri fondatori una icona del liberalismo del liberismo economico Adamo Smith no? quindi persona insospettabile da questo punto di vista è uno che era un fautore della concorrenza nel mercato però disse questa cosa il mercato del lavoro è l'unico che non può essere lasciato libero per l'evidente disparità di forza economica tra lavoratore e datore di lavoro è un mercato dove non esiste la concorrenza perfetta no? ecco e allora e allora e qui mi rifaccio agli commenti che spesso si sentono quando si dice ah i giudici del lavoro danno sempre ragione ai lavoratori a parte il fatto che non è vero ma quando avviene siccome avviene con una notevole frequenza tutto questo avviene perché non è il giudice che dà ragione è la legge che crea che ha istituito a posto dei diritti a tutela della parte che il legislatore storicamente ritiene essere la parte economicamente più debole non per nulla molte delle leggi del lavoro vengono ricomprense nella categoria della legislazione di sostegno no? sono leggi deliberatamente fatte per sostenere la parte come per esempio anche nella legge sulle azioni positive a tutela delle lavoratrici donne o di sostegno all'attività sindacale quindi è la legge è la legge che ha questo atteggiamento secondo io condivido di fornire un sostegno alla parte più debole in maniera da equilibrare per quanto possibile la tutela no? quindi questa è la finalità vi dico ora tecnicamente ma senza andare in tecnicismi ma diciamo più nello specifico quali sono le peculiarità del processo del lavoro quelle che contribuiscono a farne un processo celere sicuramente più non diciamo più celere degli altre forme di processo civile no? anche se tutti vorremmo che fosse ancora più celere la caratteristica della causa di lavoro è che innanzitutto le parti debbono dedurre sin dall'inizio del processo cioè quindi quando la parte ricorrente deposita il ricorso e quando la parte convenuta deposita la memoria difensiva debbono dedurre subito tutte le proprie ragioni di fatto e di diritto e tutte le prove se viene meno qualcuna di questi obblighi c'è la sanzione della nullità e se proprio non ci sono motivi di nullità vi è tutta una serie di preclusioni e decadenze che impediscono di produrre documenti successivamente di richiedere prove successivamente sin dall'inizio le parti debbono e debbono mettere come dire sul tavolo tutte le loro carte questo perché è importante perché l'altro principio a quale si ispira il diritto del lavoro è quello della oralità deve essere un chi conosce il processo civile ordinario sa che lì è prevalentemente un processo cartaceo scritto l'oralità è quella che consente anche l'altro valore della immediatezza quando si fece la legge del 73 si diceva che l'obiettivo era che era il processo dovesse concludersi in una sola audienza tutto questo non è facile non sempre possibile però il processo del lavoro procede a tutti gli strumenti di legge per procedere celermente e un altro di questi strumenti è che la legge consente ampi poteri istruttori a giudice e in più l'altra peculiarità è che la specializzazione del giudice porta anche alla specializzazione degli avvocati gius lavoristi normalmente gli avvocati che fanno cause di lavoro sono specialisti specializzati in quella materia vado celermente perché mi accorgo di stare mancando al mio impegno ovviamente esistono controversie individuali e controversie collettive che sono comunque quelle indicate dall'articolo 409 del codice di procedura civile riguardano quindi il lavoro subordinato privato i rapporti di mezzi agria i contratti agrari i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e altri rapporti con una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale sono quelli che avete sentito nominare che gli studenti hanno sentito nominare i co-co-co cioè quelli che hanno un rapporto di collaborazione coordinata che non sono propriamente lavoratori subordinati ma ai quali la legge consente di avvalersi del processo del lavoro e poi da alcuni da un bel po' di anni sono state affidate al giudice del lavoro anche le cause dei dipendenti di enti pubblici che in precedenza erano affidate ai tar ai tribunali amministrativi regionali allora le controverse individuali come dice il nome stesso sono quelle promosse dal singolo per la tutela di diritti la cui titolarità è in capo al singolo lavoratore le controversie collettive sono quelle che riguardano posizioni giuridiche o attribuite alla collettività diciamo normalmente all'organismo agli organismi sindacali che tutelano alcuni ai quali è attribuita la tutela di alcuni diritti e qui indirettamente vedo di affrontare una delle domande proposte dagli studenti che il professore Sizia mi ha mandato l'azione tipica esperibile da sindacato è quella prevista dall'articolo 28 dello statuto dei lavoratori ne avrete sentito parlare anche di recente per queste cause in materia di delocalizzazioni a Firenze ecc l'articolo 28 è previsto si tratta dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori parliamo della legge numero 300 del 70 può essere esperito contro comportamenti del datore di lavoro diretti a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero quindi come vedete sono diritti collettivi del si dice che lo sciopero è un diritto individuale a esercizio collettivo ma non ci addentriamo troppo in questi dettagli siccome la legge ritiene importante la tutela del diritto della libertà dell'attività sindacale del diritto di sciopero ha creato uno strumento particolare ancora più celere rispetto al processo del lavoro diciamo ordinario di fatti la legge prevede che il giudice debba convocare le parti nei due giorni successivi raramente succede ma qualche volta succede ma i tempi di convocazione comunque sono molto brevi e che il giudice si possa limitare ad assumere sommarie informazioni cioè in questa fase cautelare che è connotata dalla urgenza di tutelare certi diritti non è necessaria una istruttoria approfondita sono sufficienti sommarie informazioni ovviamente poi il decreto emesso dal giudice in questo contesto potrà essere oggetto di opposizione come normale per tutti i provenimenti giudiziali che sono sempre contro i quali si può sempre fare ricorso in una fase successiva dove vi sarà quella che si chiama la cognizione piena e non più la cognizione sommaria allora qui mi rifaccio a una delle domande che ha posto qualcuno degli studenti che ha letto la rivista appunto lavoro diritti Europa dove ho pubblicato nel numero in corso ho pubblicato un ricorso che si fonda su una class action l'ho pubblicato perché è il primo caso in Italia nel quale la class action viene esercitata per una materia di lavoro no? la class action sapete sono come dire le azioni collettive ecco per non usare sempre questi anglismi nascono molto nel mondo anglosassone ma sono azioni collettive promosse da soggetti che hanno un comune interesse quindi hanno un interesse che li lega tutti e che possono essere promosse nei confronti nei confronti di realtà aziendali di imprese diciamo di realtà complesse la legge affida queste cause alla sezione specializzata che esiste presso il tribunale ordinario è la sezione specializzata per le imprese e le cause le class action tradizionali vengono affidate a questa sezione la prima elemento di novità è poi appunto che in questo caso si tratta di un'azione proposta da lavoratori parliamo della nota e arcinota questione dei riders ma non viene proposta innanzi al giudice del lavoro perché non è previsto quindi la questione giuridica è importante pone una parliamo dell'articolo 840 sexies deices del codice di procedura civile no? sì questa no questa azione pone un problema importante innanzitutto è ovviamente un problema ancora subiudice in attesa di valutazione perché i giudici il tribunale del la sezione delle imprese potrebbe anche decidere eh che dovrà decidere sull'ammissibilità di questa azione no? perché perché potrebbe antivis ma vado in astratto potrebbe dire ma i diritti dei lavoratori possono essere tutelati con il processo del lavoro quindi la class action non è consentita potrebbe anche dire il contrario quindi sarà interessante sapere quale sarà la decisione ma ove venisse ammessa ci sarebbe poi un problema di collegamento con l'azione ex articolo 28 no? di cui vi ho parlato prima e cioè se come si coordina l'eventuale class action con l'articolo 28 e allora qui vi ho detto che spetterà al collegio di decidere se questa azione è ammissibile poi se la riterrà ammissibile passerà a esaminare il merito ma la decisione comporta una interpretazione dell'articolo 840 sex yes beces che vi ho richiamato allora qui vengo a un'altra domanda che mi è stata proposta professore Silzia e professor Meghi io sto andando oltre il tempo che mi ero prefissato però siccome ci sono queste domande cerco di integrare la mia relazione con le domande che sono proposte anche perché vedo che ci sono questi link quindi ditemi voi cari professori quando io devo fermarmi magari per lasciare spazio alle altre domande però ecco il collegio dovrà interpretare l'articolo 840 sex yes beces per stabilire se comunque è consentita la proposizione di quest'azione anche per questioni inerenti il lavoro e qui veniamo quindi a un'altra domanda che qualcuno ha posto opportunamente le domande che sono state segnalate dal professore Silzia sono davvero acute molto pertinenti si vede che gli studenti hanno una buona preparazione hanno studiato quindi non sono domande stravaganti davvero interessanti e questa è una domanda fondamentale perché in questa domanda si dice ma c'è il richiamo interpretativo alla giurisprudenza allora l'interpretazione è un'attività fondamentale è l'attività tipica di tutti i giuristi e quindi quando dico tutti i giuristi intendo non solo i giudici ma intendo gli avvocati intendo gli studiosi gli accademici diciamo che studiano le norme ovviamente ognuno conduce l'interpretazione con strumenti diversi e con finalità diverse ma tutti interpretano cioè cercano di cogliere il significato della norma che è una proposizione generale e astratta per individuare quali sono le connessioni le ricadute di questa norma nel caso concreto e quindi lo studioso di diritto affronterà il tema sulla base dei principi generali sulla base della dottrina preesistente l'avvocato affronterà l'interpretazione con un'altra ottica cioè cercherà di dire al giudice come quella norma si può applicare al caso del suo cliente cioè del soggetto che lui tutela quindi proporrà le argomentazioni che riterrà opportune per ricondurre la previsione generale e astratta della norma al caso concreto questa attività è importante perché guardate poi è alla base anche dello sforzo interpretativo del giudice il giudice ovviamente può interpretare la norma anche se nessuno glielo chiede però se l'avvocato propone una certa lettura della norma è di stimolo di spinta al giudice a continuare nella nella interpretazione guardate ho richiamato il rapporto il ruolo importante dell'avvocato nel processo che serve a come dire a realizzare la tutela dei diritti peraltro un grande studioso un grande giurista diceva il buon avvocato che è Calamandrei diceva il buon avvocato fa il buon giudice nel senso che se l'avvocato imposta la sua richiesta in maniera giuridicamente qualificata contribuisce a mantenere anche il giudizio del giudice su un piano parimenti qualificato ora l'interpretazione funzione importante del giudice si può svolgere come sapranno gli studenti comporta sia la lettura letterale delle parole sia un'interpretazione logica sia un'interpretazione sistemica cioè guardando la singola norma alla luce di tutte le norme del sistema giuridico nazionale e non più nazionale non solo nazionale e quindi alla luce della costituzione che fissa i principi fondamentali e alla luce degli altri principi che emergono dalle norme dalle leggi speciali che riguardano la materia oggetto del processo qualcuno ha fatto un'altra domanda collaterale la giurisprudenza tiene conto della dottrina nell'interpretare la norma altra domanda molto puntuale ma è naturale la giurisprudenza cioè i giudici debbono ottenere anzi in gran conto anche la dottrina quindi non solo quello che le scrive l'avvocato ma anche quello che su quell'argomento ha scritto il tal professore il tal studioso no? perché sono tutti elementi che servono al giudice per formarsi il suo convincimento per cui magari una lettura particolare data dal tale studioso può aiutare così come di aiuto è anche la lettura dell'atto degli avvocati può aiutare il giudice a formarsi una sua opinione quindi guai se il giudice pensasse di non avere bisogno di altri supporti per la sua opera di interpretazione è utile e quindi è particolarmente utile anche la dottrina quindi spero di avere risposto anche a questa domanda ovviamente non solo il giudice deve servirsi della dottrina ma anche l'avvocato anche l'avvocato quando imposta il suo atto quando scrive la sua richiesta al giudice nel formulare le sue argomentazioni in diritto farà bene ad avvalersi anche della dottrina oltre che della giurisprudenza precedente cioè nell'interpretazione sia i giudici sia gli avvocati sia i professori sia gli accademici vanno a vedere anche quale è stata la risposta data dalla giurisprudenza partendo dalla Cassazione ma non solo su quell'argomento quando si è occupata di quel di quel argomento e allora per connessione viene fuori l'altra domanda che qualcuno ha fatto con riferendosi a Muckenberger dice ma alla fine non è che i giudici in questo modo è un regolatore dissimulato laddove per regolatore si intende il legislatore colui che fa le norme tema fondamentale su cui vi dirò qualche considerazione innanzitutto non è un regolatore dissimulato perché non dissimula nulla perché tutto quello che lui pensa deve scriverlo perché il giudice come voi sapete ha l'obbligo della motivazione cioè non può dire io assolvo tizio e condanno Caio e basta no? Questo non solo nel penale ma anche nel civile non può dire do ragione a tizio e quindi condanno Caio al pagamento a un tale adempimento il giudice ha l'obbligo della motivazione cioè deve spiegare qual è il ragionamento logico giuridico in base al quale lui arriva a una certa conclusione quindi deve spiegare quali sono i fatti che ritiene rilevanti qual è la valutazione di questi fatti come li valuta alla luce delle norme di legge e come ritiene che debbano essere interpretate alle norme di legge quindi c'è questo stretto legame con la motivazione non abbiamo molto tempo ma la motivazione è quella che crea la giurisdizione moderna in passato quando la giustizia era esercitata dal sovrano il sovrano non aveva bisogno di spiegare perché condannava tizio o assorveva Caio la giustizia moderna nasce nel momento in cui nasce l'obbligo della motivazione e allora e qui vengo a un'altra domanda collaterale l'attività di interpretazione dei giudici spesso è resa più ardua e difficoltosa dalla formulazione delle norme che diciamo ecco per usare un eifemismo non è sempre il massimo della chiarezza il massimo della precisione tanto più le norme sono generiche di carattere generale tanto più arduo diventa il compito del giudice nell'interpretazione e tanto più forte è il rischio che il giudice possa come dire estendere oltre i limiti la sua funzione di interpretazione e badate bene non c'è bisogno di estendere troppo i limiti del giudice più precise sono le norme più chiare sono le visioni delle norme e più è facilitato il compito del giudice che invece spesso si trova a dover fronteggiare un caso avendo a disposizione degli strumenti inadeguati quali sono le norme di legge perché vedete la differenza fra il legislatore il politico e il giudice è questa che il legislatore può anche non regolare una materia e far passare del tempo non occuparsi il giudice non può dire no io non decido questa causa perché le norme non sono chiare questo non è consentito il giudice deve comunque arrivare a una conclusione no? e quindi interpretare la norma salvo il caso in cui il giudice non ritenga di rimettere la norma in esame alla Corte Costituzionale se ravvisa se ravvisa dei profili di anticostituzionalità il rischio qual è che sia perché sottoposta a questa pressione sia per una predisposizione personale il rischio è che qualche volta il giudice possa andare oltre la funzione di interpretazione no? e possa arrivare a cadere nel territorio proibito del fare la norma del creare la norma ecco perché qualcuno diceva parlava di regolatore dissimulato questo non è consentito al giudice perché il giudice non può arrivare attraverso l'interpretazione a far dire alla norma quello che la norma non dice neanche attraverso l'attività interpretativa guardate bene il giudice deve usare tutti come dire i possibili strumenti tutti i tasti della tastiera dell'interpretazione ma non può andare oltre perché se si verifica poi una torsione interpretativa che porta a torcere la norma si finisce per avere un risultato che non è più una decisione ma è un come dire un'attività legislativa fare il giudice fa la legge fa la norma crea la norma e questo non fa parte del ruolo del giudice io mi qui ho una serie di altre domande poste dagli studenti ma mi affido ai professori ditemi come volete che se proceda con queste domande ad affrontare queste domande perché ancora ne ho e temo di dover parlare ancora a lungo purtroppo per voi ma cercherò di sintetizzare ancora di più presidente grazie innanzitutto ma non lo so volete volete porre voi qualche domanda tenete venite porre qua così che arriviamo un dialogo con a casa questa è una domanda di gruppo è una sorta di classic question bene vi ascolto va beh allora se vuole ho una domanda io che ci terrei a farle riguardo la sua esperienza ha notato un cambiamento del contenzione negli anni vale a dire ha notato un cambiamento nel tipo di processi che si fanno oggi sì bene allora rispondo a una per una o volete fare prima tutte le domande ne avrei altre due ma se vuole rispondere magari va bene anche anche per problemi di tempo certo quello che lei mi chiede è chiaro che è cambiato il contenzioso nel corso degli anni ma anche perché è cambiata la realtà economica italiana la realtà produttiva la realtà sociale la realtà dei rapporti delle relazioni industriali voi pensate che quando è intervenuta la fondamentale legge appunto del del milenovecentosettanta lo statuto dei lavoratori le relazioni industriali erano di altro tipo eh è stata la lo statuto ha prodotto una novità un terremoto perché ha riconosciuto ai lavoratori tutta una serie guardate la legge se ne parlava di questa legge già dagli anni cinquanta però ha avuto una spinta maggiore negli anni diciamo quelli che si chiamava dell'autunno caldo in cui ci fu una forte presenza di lotte operarie e quindi i primi anni furono caratterizzati soprattutto da un contenzioso i primi anni del dopo il processo del lavoro da un contenzioso che aveva come oggetto diritti sindacali e diritti inerenti all'attività sindacale in fabbrica l'attività l'attività eh organizzativa pensate tutto quello che la legge prevedeva in materia di affissioni di contributi di discussione dei contributi sindacali e di rappresentanze sindacali aziendali di permessi eh per l'attività sindacale ecco tutto questo a poco a poco ha eh ha assunto una percentuale diciamo una presenza minore anche perché nel corso degli anni vi è stata una maturazione di tutti i soggetti delle parti sociali quindi tanto dei sindacati dei lavoratori quanto dei degli organismi datoriali dei sindacati diciamo dei datori di lavoro e quindi sono alcuni diritti che prima si faticava a far riconoscere nei posti di lavoro poi sono stati pacificamente riconosciuti ed è venuto meno il questo tipo di contenzioso quello che invece è cresciuto era parallelo anche a questo contenzioso sindacale era quello che riguardava gli diritti individuali e quindi i diritti che riguardano le mansioni che riguardano la retribuzione che riguardano le sanzioni disciplinari che riguardano il licenziamento le discriminazioni il lavoro nero cioè il lavoro svolto senza una regolamentazione contrattuale devo dire che negli ultimi anni questo tipo di cause individuali hanno avuto un certo sviluppo fra questi particolarmente appunto quelle che riguardano il lavoro nero purtroppo molto diffuso così come vi segnalo perché ne avete sentito parlare nelle cronache giornalistiche degli ultimi mesi un altro settore di forte contenzioso che si registra soprattutto nel settore della logistica dove le imprese di logistica che è addette al commercio alla movimentazione di medici spesso fanno fare il lavoro non a propri dipendenti ma affidano in appalto questo lavoro a soggetti estranei che possono essere società o possono essere anche cooperative talvolta si verifica che questo è un mero schermo cioè si è un modo per evitare gli obblighi che gravano sull'impresa e riscaricarli su soggetti più deboli perché spesso i soggetti che dipendono da queste società appaltatrici o da queste finte cooperative che sono diverse dalle cooperative originali cioè dalle vere cooperative ecco questo è un altro settore dove si registra una fortissima violazione dei diritti dei lavoratori in termini di retribuzione in termini di tutela ed è un settore che sta prendendo molto spazio nel contenzioso nel contenzioso di lavoro ecco vado veloce ovviamente per mantenermi nei limiti di tempo vogliamo c'era un'altra domanda mi pare io posso chiedere alla luce di quanto è emerso circa il ruolo del giudice dell'ora d'oggi è possibile dire che svolge la funzione di mediatore circa quelli che sono i conflitti sociali ma mediatore proprio in senso tecnico no perché perché la mediazione vera e propria che è importante si svolge al di fuori del processo normalmente quando le parti vanno al processo c'è una situazione di contenzioso no perché le situazioni già risolte prima non vanno in causa no e sarebbe auspicante ecco il processo ecco è come l'ospedale nel processo c'è la patologia dei rapporti sociali perché i rapporti che si risolvono pacificamente fra le parti non vanno in giudizio e non li vediamo mai e però il giudice più che un mediatore è un risolutore dei conflitti no perché di fronte a due parti che non trovano d'accordo resta la funzione risolutrice del giudice ma questo è abbastanza generico nel senso che va inteso in senso più concreto innanzitutto perché la stessa legge del processo del lavoro affida anche al giudice una funzione di conciliazione cioè prevede che i giudici alla prima udienza tenti l'accordo fra le parti no quindi in questo senso sicuramente si può dire che il giudice è il mediatore se poi l'accordo non va a buon fine e vi dico che spesso va a buon fine no ma se non va a buon fine ovviamente la causa prosegue e viene decisa con una sentenza che poi darà torto a una parte o ragione all'altra o ecco questo però mi richiama un'altra domanda che era stata posta cioè degli strumenti si diceva di arbitrato o di conciliazione allora esistono molti strumenti preventivi cioè che si possono utilizzare prima di andare in causa uno di questi strumenti è la conciliazione in sede sindacale la legge prevede che vengano istituite delle commissioni paritetiche formate da rappresentanti dell'azienda da rappresentanti del lavoratore che abbiano come compito quello di dirimere la questione prima che diventi una causa no e devo dire che questo strumento è molto utilizzato e abbastanza spesso con buoni risultati ed è lo strumento preferibile perché guardate che la soluzione che emerge dall'accordo delle parti è sempre la migliore perché le parti sono i migliori interpreti dei propri dei rispettivi diritti dei rispettivi interessi no mentre la soluzione e hai pregio questo anche la conciliazione che la questione il contenzioso viene chiuso per sempre mentre questo effetto non ce l'ha la sentenza perché chi perde spesso è convinto di aver perso ingiustamente e quindi fa legittimamente propone appello cioè ripropone la causa in secondo grado il che vuol dire che ci saranno ulteriori spese per le parti ulteriori tempi ulteriori incertezze nell'esito perché è possibile che il giudice di appello ribalti in tutto o in parte la sentenza emessa in primo grado la conciliazione ha questo effetto che chiude la vicenda per sempre o come dicono gli avvocati ha un effetto tombale nel senso che la questione una volta conciliata è finita e non può più essere ripresa spero di aver dato un'adeguata risposta alla domanda e magari passiamo ad altra domanda vorrei chiederle se nella sua esperienza le norme le politiche sul lavoro a livello di dimensione europea hanno trovato situazione ah beh certo certo e come no e come no questo è il dato nuovo ma vi ricordo appunto come dicevo prima che la rivista che dirigo si chiama lavoro diritti Europa eh proprio perché eh c'è questo ruolo importante della giurisdizione europea eh tra parentesi io siccome vedo ho visto che gli studenti hanno molto guardato la rivista consigli mi permetto di consigliare loro anche di iscriversi al di darciare lì dove quando appare il pop up di lasciare la propria mail per seguirla anche in futuro perché anche se nessuno di voi ha interessi prettamente gius lavoristici ma la rivista si occupa di temi anche in senso lato non solo gius lavoristici e poi è fatta e concepita in maniera da non essere limitata agli addetti ai lavori avvocati magistrati e accademici quindi io raccomando sempre a chi scrive di tenere presente anche un pubblico più ampio probabilmente qualche ogni in ogni numero qualcuno eh si potrà anche gli studenti potranno trovare un motivo di qualche argomento di interesse e quindi vabbè chi ha aperto la rivista si accorge che appare comunque c'è il modo per iscriversi alla newsletter e così da riceverla anche nei numeri successivi andiamo alla giurisdizione sovranazionale alla giurisdizione europea l'influenza nel diritto del lavoro in Italia è di due fonti primo le fonti normative variamente intese secondo la giurisprudenza europea allora le fonti normative voi sapete che tipiche della della dell'Unione europea sono principalmente i regolamenti e le direttive che hanno una efficacia immediata diretta nell'ordinamento dello Stato talune richiedono il passaggio di come dire di introduzione nell'ordinamento con l'emanazione di apposite leggi le direttive hanno un valore vincolante anche per i giudici che deve decidere il singolo caso quindi come vedete l'importanza della dimensione europea è cresciuta ed è destinata a crescere anche sotto un altro profilo quando il giudice nell'esaminare una controversia nazionale ritiene che debba essere valutata o che vi sia la possibilità ipotetica di valutarla alla luce della normativa europea può fare quello che si chiama il rinvio pregiudiziale cioè formulare un è un meccanismo analogo a quello che nel nostro ordinamento si fa con il rinvio con la rimessione alla corte costituzionale parallelamente se il giudice ritiene che nel decidere una certa norma una certa controversia debba si debba tener conto di una norma sovranazionale di una norma europea può rimettere la questione appunto con rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell'unione europea quella che nella sigla si chiama cgue e quindi oramai questo è un terreno che viene frequentissimamente attraversato nel campo della giurisdizione nazionale e con effetti non secondari vi faccio un esempio che sarà sarà facilmente percepito da tutti perché tutti probabilmente avete conosciuto qualche professore qualche insegnante di scuola precario nel corso degli anni in Italia vi fu un forte contenzioso proposto dai docenti precari tutti quelli che ricevevano un incarico annuale e che hanno ricevuto un contratto a tempo determinato hanno ricevuto incariche annuali per 5 6 10 10 15 anni allora più delle volte questo contenzioso in Italia si è risolto con il riconoscimento della illegittimità di questi contratti precari e quindi con la conseguente risarcimento dei danni però gli insegnanti chiedevano non solo il risarcimento dei danni economici ma chiedevano la immissione l'assunzione definitiva la faccio breve lì c'è il divieto dell'articolo 97 per farla breve la questione dopo essere stata portata in Italia in centinaia di tribunali poi di corti d'appello e in Cassazione è stata rimessa alla corte di giustizia dell'Unione Europea che in effetti ha dichiarato che questa prassi della reiterazione dei contratti a termine era violativa della normativa europea l'effetto quale è stato che lo Stato italiano per adeguarsi a questa normativa ha deciso ha disposto l'assunzione di alcune decine di migliaia di docenti assunzione della quale si parlò molto a Veneto sarà quattro anni fa quattro cinque anni fa ogni governo la pose la portò come un suo merito per nella lotta contro la disoccupazione in realtà è stata una decisione che era assunta per ottemperare alle disposizioni della Corte di Giustizia europea quindi spero che questo esempio sia stato significativo per dire come nel concreto la giurisdizione la normativa e la giurisdizione europea entrano direttamente nella risoluzione del contenzioso nazionale vedo che c'è qualcuno che in attesa un altro esempio Presidente è il il problema del concetto di trasferimento di ramo d'azienda ah certo qui è stato veramente un un ping pong un palleggio si sono pronunciate tutte le correti possibili Cassa della Corte di Giustizia tornata indietro insomma tra l'altro con una norma che alla lettera sembrava di era qualcosa di diverso quello quello è uno dei profili che forse anche il sociologo e lo storico dovrebbero affrontare ecco no ma il esempio che ha fatto lei è collimante in qualche modo con quello del trasferimento del trasferimento d'azienda c'era c'era uno studente sicuramente professore lei la sua competenza l'ha portato a richiamare un'altra vicenda molto importante no perché non c'è dubbio il trasferimento di azienda è stata una pratica adottata in moltissime situazioni con effetti spesso come dire deflagranti sui rapporti di lavoro e lì c'è stato questo sviluppo di giurisprudenza nazionale innanzitutto a tutti i livelli con esiti di vario genere come normale che avvenga e poi è stata coinvolta la giurisdizione europea un esempio molto molto calzante che riguarda un fenomeno di primaria importanza forse quello degli insegnanti forse più vicino all'esperienza quotidiana di ognuno di noi perché bene o male qualcuno o qualche insegnante lo conosce però ecco l'importanza sul piano dei principi ma anche sul piano delle ricadute nell'economia l'importanza della decisione sul trasferimento di azienda sicuramente è importante c'era di scivico qualcun'altra sì non so però se c'è qualcuno forse c'è stato che c'è problema di collegamento ma c'è qualcuno online beh come facciamo a vedere no eventualmente se qualcuno può prendere la parola ovviamente semplicemente attivando il proprio microfono oppure scrivere in chat ma se no io potrei porla io questa questione che ora ne avevamo della prossima delle convenzioni internazionali ah prego venga venga eccomi vorrei porle una questione nell'ambito delle convenzioni internazionali perché nell'ambito dell'Unione Europea comunque le fonti per quanto riguarda i regolamenti sono direttamente applicabili mentre le direttive è vero che è necessario un adeguamento però si applicano più facilmente rispetto alle convenzioni internazionali e in particolare le convenzioni internazionali adottate nell'ambito dell'OIL c'è stato un adeguamento nell'ordinamento italiano cioè non è solo necessaria la ratifica di queste convenzioni ma è necessario anche un adeguamento perché chiaramente poi le persone che vedranno i loro diritti violati dovranno andare davanti al giudice italiano certo no l'adeguamento l'adeguamento direi è necessario nel senso di adeguamento dell'ordinamento nazionale perché lì ecco gli atti gli atti del le deliberazioni dell'OIL non hanno la stessa efficacia vincolante che hanno gli atti normativi dell'Unione Europea l'OIL si basa essenzialmente sulle convenzioni fra gli stati e quindi come dire c'è un meccanismo c'è un meccanismo più tipico del diritto internazionale che il meccanismo convenzionale per cui la loro efficacia è legata estrettamente correlata alla volontà degli stati stipulanti delle convenzioni e quindi i principi dell'OIL hanno una loro importanza ma vanno recepiti vanno le convenzioni vanno ratificate dai parlamenti nazionali e recepiti nell'ordinamento non esiste tant'è che non esiste un organo giurisdizionale nell'OIL nell'ambito dell'OIL non esiste un organo giurisdizionale paragonabile alla Corte di Giustizia europea vi sono dei collegi ecco dei collegi che hanno una funzione paragiurisdizionale anche ai fini della risoluzione di eventuali conflitti che intervengano fra gli stati ma non hanno la stessa efficacia e non hanno la stessa la stessa funzione che ha la giurisdizione europea quindi l'OIL ha poi una forza anche sul piano della moral persuasion che deriva dalla storia dell'OIL perché l'OIL è più che centenario due o tre anni fa mi pare si è celebrato il primo centenario dell'OIL quindi che è un'organizzazione benemerita perché per anni e anni è stata la come dire la struttura sovranazionale più più importante per quanto riguarda il mondo del lavoro quindi ha una autorevolezza che sicuramente contribuisce poi l'OIL si pronuncia con molti altri atti non aventi valore normativo ma molto dotati di influenza i report annuali che rilascia sulle singole materie su singoli aspetti quindi direi che la funzione dell'OIL al di là della rilevanza giurisdizionale conserva una sua importanza una importanza significativa nella regolamentazione dei rapporti di lavoro e nella tutela dei diritti posso chiederle una cosa Presidente proprio su questo tema su cui rispondeva adesso al di là del fatto che hanno un'efficacia giuridica diversa quindi quello che diceva lei ma capita che vengano comunque richiamati dal giudice in una sentenza come principi comunque cui far riferimento anche se con una forza applicativa inferiore le convenzioni qualche convenzione ad esempio ad esempio sappiamo che c'è un nucleo di convenzioni dell'OIL che sul piano internazionale almeno sono riconosciute come i cosiddetti core labor standards cioè quelli irrinunciabili contro il lavoro forzato il lavoro infantile cose di questo genere sono principi che comunque in qualche modo sono richiamati anche possono essere richiamati anche in una sentenza del giudice del lavoro o bisogna sempre come dire un atto normativo più che abbia un'efficacia vincolante più diretta più certo no tutti i profili della vincolatività certo che possono e spesso vengono richiamati come elemento di rafforzamento non dico di contorno ma complementare alla interpretazione delle norme perché comunque hanno una loro una loro rilevanza le norme dell'OIL l'esperienza mi dimostra che non è frequentissima la citazione delle norme OIL ma io sono convinto che si possa che il giudice possa e debba fare riferimento pur consapevole della limitata cogenza sul piano formale si possa fare riferimento perché ecco nell'ambito dell'attività ermeneutica poco fa dicevo che il giudice deve avvalersi di tutti i tasti che l'ermeneutica di tutta la tastiera interpretativa e quindi la costituzione e quindi la normativa la normativa europea ma sicuramente fra questi tasti un posto importante possono rivestire anche i principi e le convenzioni e le altre deliberazioni perché gli atti come lei sa meglio di me gli atti dell'OIL sono di diversa natura non ci sono solo le convenzioni ci sono le deliberazioni ci sono i memorandum eccetera eccetera ognuna diversa penso di sì penso anche se ecco secondo me l'OIL dovrebbe essere come dire investito da una rivisitazione e da un rafforzamento perché negli ultimi tempi si è un po' appannata la funzione dell'OIL i giuristi la avvertono un po' meno non lo so le ragioni le potrà dire le potrà individuarle più facilmente di me probabilmente una delle ragioni è stata come dire l'assunzione di un ruolo sempre più importante della normativa europea no ma noi parliamo ecco ecco qui il mio discorso e qui va mi autodenuncio il nostro è un discorso fatto da europei perché viviamo in un continente dove ci sono legislazioni nazionali evolute no ma se invece l'OIL si rivolge ad altre situazioni distanti dove le tutele degli stati della legislazione nazionale sono pressoché inesistenti o comunque molto limitate allora certo in quei casi la il ruolo dell'OIL diventa molto più importante da noi non lo è grazie a Dio nel senso che le condizioni minimali le condizioni di base riconosciute e affermate dall'OIL sono importanti in altre nazioni da noi non lo hanno questa importanza perché mediamente appunto come dicevo è andata più avanti la normativa nazionale quindi forse anche questo contribuisce alla mia percezione che il ruolo dell'OIL sia vissuto di meno ma se è vissuto meno nella nostra ottica che ancora resta caro professore resta eurocentrica dobbiamo fatichiamo ad accoggerci che l'Europa non è più il centro del mondo vero? Sì è qualcosa in chat cioè in chat presidente una domanda che si ricollega forse a questo tema che ha introdotto Lorenzo la questione e anche la studentessa perché la questione della rilevanza delle convenzioni OIL è molto complessa di fronte al giudice nazionale forse presidente due sono i temi da un lato c'è il distacco di mano d'opera dove in qualche modo il distacco nazionale dove il contenzioso mi risulta sia pochissimo ma per ragioni forse antropologiche sociologiche che per noi i tecnici del diritto è complicato lì la questione del diverso peso delle regole gioca un ruolo importante ma anche lì abbiamo il diritto europeo che si sovrappone in qualche modo certo dall'altro lato c'è un esempio interessante ecco lì non so l'esperienza che lei ha avuto come magistrato la famosa contrattazione di prossimità dove la legge espressamente dice alle parti sociali che l'accordo collettivo può sì derogare alla legge o al contratto collettivo ma non in violazione tra l'altro delle convenzioni oil non lo so questo a me non risulta che ci sia un contenzioso particolarmente significativo non so se lei ha mai avuto modo di occuparsi di contratti di prossimità e vedere se eventualmente sono o non sono in violazione delle convenzioni la domanda che veniva posta in chat da Sonny sostanzialmente pone questo tema cioè dice ma il giudice del lavoro perché noi stiamo parlando con un magistrato della Repubblica non con un organo sovranazionale quindi però Sonny dice sì ma in che modo voi giudici nazionali riusciti a dare giustizia no inter trattocosia a questi diritti rinunciabili dei lavoratori nei paesi che non hanno ratificato non vogliono ratificare le convenzioni internazionali qui apro e chiudo una parentesi l'Italia non ha ratificato la convenzione internazionale sul licenziamento per esempio ecco non so Presidente se vuole commentare questo tema così complesso ma vede io non ho la competenza che ha lei sui profili internazionali del diritto quindi davvero questo è un tema specifico che lei propone lei mi chiedeva se ho conoscenza di contenzioso su questo tipo di materia devo dire che non mi la mia non è un parere esaustivo non possiedo tutta la giurisprudenza ma non è una tematica che sia che in Italia abbia avuto un grande ruolo anche perché lei sa bene che il rapporto fra legge e contrattazione è già è già frequente esistono varie norme nazionali che rimettono alcuni aspetti la definizione di alcuni aspetti ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentativi quindi questo meccanismo di rinvio è già adottato e poi nel nostro sistema nel nostro ordinamento il sistema della contrattazione collettiva ha assunto un ruolo devo dire importante e preeminente nella regolamentazione delle realtà specifiche quindi credo che di non allontanarmi troppo davvero se le dico che è contenzioso in queste materie è limitato anche perché io parlo nella prospettiva del giudice nazionale italiano cioè di un sistema di un ordinamento dove il ruolo sindacale il ruolo degli organismi sindacali anche in virtù di quelle norme di cui parlavo io dello statuto dei lavoratori in particolare ma non solo di quello il ruolo nel corso degli anni è diventato importante e quindi probabilmente non c'è bisogno di tutelare i livelli minimi di trattamento riconosciuti dalla OIL perché il nostro sistema si pone su livelli superiori almeno questo Presidente io prima di ringraziarla e soprattutto tararei una conclusione in qualche modo che è questa soprattutto per i nostri studenti e cioè l'utilità di leggere la giurisprudenza anche come strumento che ci dice delle cose importanti dal punto di vista sociologico e antropologico cioè la giurisprudenza è uno spaccato dei conflitti sociali è uno spaccato anche dell'evoluzione delle problematiche economiche che si ha vedo collegata la direttrice del nostro di trattamento non so Elena se hai piacere di portare un saluto al Presidente senza altro allora colgo l'occasione dato che mi dai la parola gentilmente per ringraziare Pietro Martello di questa splendida lezione devo dire che ha toccato non solo il diritto del lavoro ma anche la teoria generale del diritto in più punti sull'interpretazione sul ruolo dei vari soggetti della cosiddetta comunità giuridica e di come appunto sempre debbano essere tenuti insieme questi questi ruoli perché il diritto effettivamente svolge la propria funzione quindi voglio davvero ringraziarlo tra l'altro potendo intervenire alla fine non all'inizio come spesso mi tocca devo dire che ho la possibilità di apprezzare proprio questo contributo che è stato molto forte credo e grazie anche agli studenti che hanno fatto degli ottimi interventi quindi davvero davvero grazie ecco nient'altro grazie professoressa ringrazio delle belle parole che ha detto ma sono io davvero che sono molto grato e sono molto contento di aver potuto partecipare a questo incontro che trovo stimolante ma dal quale emerge un livello di consapevolezza e un livello di qualità di studio in capo agli studenti che è davvero davvero ragguardevole e le domande che mi sono state fatte che mi sono state mandate evidenziano una una attenzione e una percezione dei problemi davvero non comune e questo è merito non so in che misura va ripartito ma è merito degli studenti ma anche dei loro professori quindi davvero una un mi felicito con tutta la comunità accademica ecco nella quale sono partecipi studenti e docenti per per questo per la come dire il grado di attenzione e di consapevolezza che è emerso e quindi non escludiamo anzi magari avremo altre occasioni di un confronto che come questo ho trovato fecondo e davvero di arricchimento reciproco anche a me è servito è servito molto per come dire aumentare la mia attenzione su certi profili grazie 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 anche io naturalmente il presidente per questa bella discussione e confesso che personalmente ma sono convinto anche gli studenti perlomeno della mia tappe che non sono specialisti in diritto che non sono studenti di diritto ma personalmente ho imparato diverse cose ecco che mi faranno sicuramente riflettere anche per il proseguimento degli studi dei miei interessi che credo di poter dire lo stesso per gli studenti di questo tutto per cui grazie davvero e beh avremo sicuramente altre occasioni presidente immagino so che ha un spalizio di collaborazione con Andrea Sizia molto molto certo certo avremo occasione di incontrarla di nuovo me lo auguro un saluto al professor Sizia un saluto al professor Menchi e un saluto anche a chi non vedo al professor Sacchetti che non vedo ma la cui presenza so esserci e quindi grazie grazie ancora per questa bella occasione grazie buon pomeriggio certo quando vuole con piacere arrivederci arrivederci